L'inaccettabile aggressione ai danni del personale in servizio e pronto soccorso del San Giovanni di Dio riaccende i riflettori sulla spinosa questione della sicurezza del personale sanitario. Immediata e dura la condanna dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone con una nota del commissario straordinario Antonio Brambilla e del direttore di presidio medico Lucio Cosentino che stigmatizzano quanto accaduto ieri sera dopo le 22 nel pronto soccorso del nosocomio pitagorico. La violenza di una donna che pretendeva che un suo familiare venisse visitato immediatamente nonostante al triage non gli avessero assegnato un codice prioritario ha provocato fratture, contusioni e traumi psicologici al personale sanitario in servizio due infermiere e due dottoresse. La donna ha scatenato la sua furia contro infermieri e medici con l'assurda pretesa di scavalcare altri pazienti e addirittura un bambino nella delicata fase del triage. Il bilancio della zuffa per la quale sono state allertate le forze dell'ordine che hanno poi condotto la signora in questura mentre il paziente si dileguava al pronto soccorso è rilevante. Calci e pugni ed una ferita al labbro per un'infermiera, un dito rotto per la sua collega, distorsione e ingessatura del polso per il primo medico, contusioni e un forte shock per la seconda dottoressa. Situazioni intollerabili, commentano dalla direzione dell'ASP, che mortificano chi lavora duramente e con abnegazione per il benessere e la salute dei cittadini, spesso in condizioni difficili e in numero ridotto. La spirale di violenza verbale e fisica che compromette frequentemente la sicurezza e il lavoro del personale sanitario è una vera e propria emergenza che riguarda tutto il Paese per la quale sono necessarie azioni concrete. L'azienda da parte sua adotterà tutte le procedure opportune per evitare che simili episodi si ripetano e per garantire la sicurezza sul lavoro. Nel frattempo giunga al personale coinvolto la nostra vicinanza e la nostra massima solidarietà.